Il secondo sabato teatrale dell'Urbe, dedicato ai rurali della provincia. Questi lavoratori, giunti con treni speciali da Maccarese, Littoria e Colleferro, hanno gremito cinque teatri principali e percorso con festosi cortei neggianti al duce le vie della capitale. Allo spettacolo al Teatro Argentina è intervenuta a sua altezza reale la Principessa Maria di Savoia. Al Teatro Reale dell'Opera, dove si rappresentava Madame Sangene di Giordano, lo spettacolo è stato onorato da sua altezza reale la Principessa di Piemonte.